Più di 150 trattori, insidata da capoluogo Pozzo Leone alla frazione Vicentina di Scaldiferro, che custodisce un gioiello quale il Santuario della Madonna della Salute degli Infermi. Dal 1951 la giornata del ringraziamento istituita da Coldiretti, ma inserita nel calendario liturgico della CEI, rappresenta per il mondo agricolo un momento di grande valore identitario che celebra l'inizio dell'anno agrario. Già dei Vescovi hanno ripreso due temi a noi molto cari, la legalità e l'agromafia, che soprattutto in questo momento di difficoltà per le imprese agricole tende a inserirsi. Ci vuole rispetto, riconoscenza del ruolo dell'agricoltura, soprattutto quando si parla di cibo. Cibo che viene messo in discussione dal cibo sintetico. Pochi a livello mondiale vogliono indurci a mangiare della carne sintetica, del latte sintetico. Noi dobbiamo fare sinergia con la parte politica e la parte dei cittadini, dove va a evidenziare il ruolo fondamentale e la grande capacità dell'imprenditore agricolo nel creare un cibo sano e di alta qualità. Sappiamo benissimo che le agromafie cercano di insediarsi sui nostri territori, ma facendo squadra con Coldiretti, con il mondo della politica, con gli amministratori locali, ovviamente metteremo in atto tutta una serie di azioni politiche, atto ovviamente a contrastare questo tipo di fenomeni. E poi ovviamente un altro appello fondamentale, che è quello di iniziare una dura battaglia, soprattutto a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, contro il cibo sintetico. So che per le famiglie è un momento difficile con tutta questa inflazione e questi prezzi alti che corrono, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo cominciare a dare giusto valore alle cose. Spesso e volentieri non badiamo a spendere i 1000-1200 euro magari per comprarci uno smartphone, però gridiamo vendetta al prezzo del pane o del latte che sono aumentati da 1,20 euro a 1,50 euro. Questo ci deve far fare a tutti un bagno di umiltà, perché è giusto che cominciamo a ridare anche il giusto valore alle cose. Il mondo dell'agricoltura però deve essere da noi ringraziato per ciò che fa in termini di serietà, di presidio del territorio e di legalità. Oggi le scelte del consumatore devono essere consapevoli e Coldiretti ce lo chiede e noi dobbiamo rispondere.